buongiorno a tutti e ben arrivati all'appuntamento del lunedì mattina con la trading room di bp prime e giovanni lapidari io sono alessandro bonetti responsabile del desk istituzionale di bp prime quello che vedete è il monitor invece appunto di giovanni lapidari vedo che ha subito un'operazione già mercato quindi li passo la parola buongiorno giovanni buongiorno buongiorno a te caro alessandro buongiorno a tutti mi sa che st'operazione un po troppo ardita pigliamo una lineata in faccia di quelle simpatiche ma non importa anzi no non stai buono stai buono stai buono stai buono stai buono chiudi la questa è fortuna avete visto un trade di fortuna totale se volete ve lo spiego se volete sono obbligato a spiegarvela però sappiate che quello che avete visto e che come è noto nel mondo digitale rimane agli atti è fortuna una fortuna cercata ne parlo coinvolgendo anche alessandro in questo senso però è una botta di fortuna cosa sono andata a guardare innanzitutto saluto anche tutti i colleghi collegati e il saluto è collettivo perché si vedevo e salutare uno per uno siete tanti vi conosco tutti vi voglio bene a tutti con questo buonismo antilapidariano cominciamo subito questo è il dax a un minuto molto sonnolento nella diciamo nella fascia oraria dalle sette alle nove di mattino otto e cinquantotto cosa notavo notavo che sia pur di pochissimo i future americani erano debolini comunque non avevano dopo il rally di venerdì e comunque dopo una chiusura di settimana decisamente forte tutta sta gran voglia di fare di quale di là di sopra di sotto ho notato anche un euro dollaro invece un po più simpatichino che cercava di ritrovare una quadra l'ho visto su questo livello di supporto rotto e adesso resistenza e ho pensato però osservando anche il sentiment su base oraria che oggi sull'euro dollaro un rimbalzino ci potesse essere allora mi son detto che la sonnolenza che il mercato aveva sul grafico a un minuto poteva essere interpretata come una per quanto riguarda il dax una piccola distribuzioncina in area 13.180 che è questa e che vedevo in amplificazione di volatilità perché questa è una figura che soprattutto se va a crearsi dalle sette in poi tende a portare un'apertura in questo caso dell'indice piuttosto movimentata diciamola così il mi mi confortava il sentiment che era andato in negativo su questo strappo come sono detto questo 13.180 almeno in apertura di mercato sarà sarà sufficientemente ostico da recuperare allora ho fatto dei calcoli di volatilità e prendendo la volatilità di queste ultime sedute facendo un po' un refresh della volatilità di inizio settimana ho visto che su base 15 minuti eravamo intorno ai 18 punti e su base 5 minuti siamo intorno ai 10 punti su base un minuto se aumentano ai 5 punti dunque volatilità molto da cardiopalma molto molto strane anche particolare allora ho pensato a questa botta di questa candela qua che ingrandiamo per beneficio di tutti i colleghi che ci seguono ho guardato questa trend line e ho visto questa botta di volatilità qui e mi sono detto su questa botta si può provare a fare un ingresso chiaramente bisogna stare attenti perché questo ingresso può poi andiamo anche a vedercelo su un grafico a 5 minuti un po' meglio sbriciolare il mio livello e quindi devo stare molto attento perché perché sotto 13 mila 142 sotto questo minimo ritengo che il mercato potrebbe avvitarsi male anche se potrebbe trovare un supporto se compri 155 e cerchi di lavorare in apertura io mi sono dato 18 20 punti di tolleranza se avessi ho preso 20 punti a ribasso mi sarei ovviamente chiuso anche se la size minima con cui sono entrato mi avrebbe potuto aiutare tutt'al più a fare una mediata però le mediate bisogna stare attenti a farle perché quando noi veniamo da situazioni orribili come queste faccio vedere una situazione talmente bella che non si può vedere come dicono a Roma che è quella di questa candela qui questa è altrettanto evidente che una candela di questo genere spariglia un po' il conto e crea dei problemi perché se vado a fare un'estensione della stessa e la proietto dal suo punto quando una candela è così elevata non vado a cercare soprattutto inizio settimana una volatilità pari all'estremo di questa candela per farmi le resistenze se devo andare a fare un'operazione in apertura le resistenze supporti devono essere forzatamente un poco più stretti e quindi mi sono dato il livello qua e soprattutto questa candela qui a 5 minuti con questi forti volumi questi sono decisamente robusti come volumi per essere un'apertura del lunedì sono volumi importanti anzi sono volumi superiori a quelli dei volumi più forti fatti venerdì sono questi e questi e anche dei volumi ovviamente di questa candela per cui mi sono detto rischio poco cerco di massimizzare il tempo nel frattempo mi aveva un po' ripreso quell'operazione mi era andata un po' in guadagno però parlavo con Alessandro per fare il collegamento e non sono velocissimo a volte a strutturarmi per cui mi sono mosso oggi credo sia più un clima quando si apre così pesanti sono passati 9 minuti dall'apertura dell'indice ma in generale credo che sia un clima che approfittando anche del fatto che c'è la scadenza dei derivati alle porte da sistemazione di posizioni non li abbiamo ancora in quale grafico zoomiamo mi chiedono quello a 5 minuti che stavo facendo vedere prima o gli altri magari siccome tengo tre grafici aperti se mi chiedete più specificatamente quale zoomiamo non c'è assolutamente nessun problema intanto vorrei far rilevare in termini di correlazioni e vi do anche un suggerimento dove ci siano degli strumenti che possono influenzare direttamente i vostri asset preferiti cercate sempre di tenervi una piattaforma aperta che ve li faccia vedere ad esempio in questo momento quello che sto osservando è un gruppo di strumenti piuttosto importanti per il mercato azionario che però questi giorni sono stati oggetto di cambio di scadenza contrattuale cosiddetto rolling e pertanto hanno subito come loro caratteristica uno stacco di prezzo molto forte alludo io comunque intanto Alessandra che mi risponda mi rimetto il grafico a 5 minuti così lo facciamo vedere meglio magari probabilmente lei allude a questo se non allude a questo quando viene spiegata l'operatività adesso può andare bene un grafico fatto così? direi proprio di sì detto questo c'è stato il cambio di scadenze contrattuali già per gli strumenti obbligazionari quindi in America il T-Note 10 anni il T-Bond in Europa il più conosciuto Bund e il nostro BTP e nelle scadenze contrattuali quando si passa da perfetto si passa da in questo caso dicembre a marzo ma questo è stato anche prima sarà anche poi per i trimestri successivi sugli obbligazionari i meccanismi di calco delle cedere con cui si indicizzano i prezzi di future e mi fermo lì perché se no la spiegazione sarebbe barbosissima tendono a fare scarti di prezzo molto forti per cui ci si sbatte come dei pazzi a cercare di trovare una quadra all'interno della dimensione dei grafici e soprattutto di quelli che vengono definiti i grafici continuativi cioè che indicizzano tutta una serie di prezzi in modo da creare poi continuità fra le scadenze vecchie e le scadenze nuove c'è stato però un salto di prezzo forte sugli obbligazionari ma gli obbligazionari stamattina stavano già dalle 7 quindi da circa un'oretta, due ore fa un po' in recupero questo soprattutto sul Bund sono po' di recuperi cioè niente di che Bund sta facendo 0,13 di Bund che è uno strumento trentenale quindi più volatile sta facendo 0,18 il nostro BTP sta facendo più 0,26 sono percentuali decorose niente di che per quanto riguarda gli obbligazionari di norma non dobbiamo attendereci scarti così robusti come sulle azionarie ma qui stiamo dicendo l'ovvio è chiaro però c'era la mia sensazione che qualche cosa si stesse un po' volturando in senso di un po' di qualche presa di profitto sull'azionario vediamo anche due fattori che ci possono dare questa eventuale conferma e poi torniamo ai grafici perché c'è anche un oro è abbastanza fortino o comunque che tende a fare un po' di recupero arrivati su un livello che da un lato sancisce la rottura della media mobile a 200 periodi sull'orario ma in questo momento sull'oro c'è anche la media mobile in orizzontale quindi è una rottura all'interno di un trend ma questa rottura tende a essere poi pulbeccata ma non ci vedo niente di più mi dicono che è sparito l'audio e prova io ti sento bene in realtà anche io anche io quindi non capisco mi viene il dubbio perché oggi sono collegato da un computer mac e non vorrei che stia quando a fare problemi provo a uscire e dimmi su skype allora esco da esco e no provo a uscire io magari perché sono collegato con un mac ora mi dicono che c'è io non purtroppo non vi dà connessione io non so come fare ragazzi il video lo stiamo registrando ma più di questo non cosa faccio? allora tu secondo me vai avanti scusate un secondo provate adesso a dirci se scrivilo scrivilo magari in chat un secondo un breve buco ora si sente bene perfetto 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 ragazzi riprendiamo tanto comunque in ogni caso la cosa fondamentale è che la registrazione non vada come si dice e quindi procediamo se no purtroppo si stava parlando di oro anche qui c'è un piccolo recuperino di oro io direi però per quanto riguarda l'azionario oggi quindi c'è questo recupero di oro c'è questo recuperino di euro-dollaro a questo punto chiudiamo il trittico e andiamo a vedere un cambio che direttamente sulle borse ci influenza che è un cambio che mi piace poco da un paio di giorni e credo che molti di voi lo seguono anche il cambio dollaro-yen voi sapete i cambi sullo yen sono un diretto proxy della salute del mercato azionario e qui sul cambio dello yen su base oraria c'è qualcosa che ci piace poco perché perché la forza delle borse contrapposta a il come si può dire alla debolezza di dollaro contro yen e non torna perché se le borse fossero forti non voglio vedere un dollaro forte voglio vedere uno yen debole e allora me lo vado a controllare anche sull'euro ovviamente l'euro oggi è robusto per cui è una lotta fra due forze però vedete che in quest'ultima oretta cioè da quando poi abbiamo cominciato quindi questa è una candela oraria che si sta formando da 16 minuti quindi qui un po' di attenzione un'altra valuta che voglio controllare sullo yen è la nuova zelanda valuta di per sé stessa sta un po' ritracciando tenete presente nuova zelanda vanno comunque non c'è più l'influenza una volta controllate anche per quanto riguarda il valore delle materie prime e qui c'è un pattern triangolare molto strano un po' troppo inclinata a mio modo di vedere questa linea quasi un wedge attenzione perché questa può essere una configurazione che su questi massimi può far pensare a un incremento di volatilità un altro cambio che spesso controllo sullo yen è l'Australia e siccome l'Australia tendenzialmente ha una maggiore forza relativa rispetto alla nuova zelanda ed è più proxy sull'azionario e sui settori risk on di quanto non lo sia nuova zelanda questa trend line che io ho tagliato appositamente non su questo minimo ma su questo massimo mi fa pensare che oggi la giornata inizia volatile con del gran rumore e dovete stare piuttosto in campana Paolo ci dice che è short su dollaro yen la sua visione è ribassista ci dice anche che il suo stop è a zero ritengo che voglia intendere stop a pari magari Paolo ci scrive in chat dove entrare possiamo condividere la sua visione operativa anche a beneficio di tutti con un'analisi sul grafico torno di nuovo qua operare come ho fatto prima in apertura a scommessa guidata adesso non mi va di farlo per cui questo è un mercato che non mi piace tantissimo e pertanto lo lascio fare vado anche su euro dollaro è carino sai cosa faccio provo ho fatto un long su euro dollaro qua questo però questo però me lo Alessandro ha beneficio chiaramente come si può dire del trade questo lo devo far lavorare un po' di più soprattutto perché ho visto una candela oraria quindi questa non è un'operazione eccetera eccetera secondariamente è perché la mia idea su euro dollaro nasce da questo livello qua questo è un livello che sto osservando cioè qui c'era un salto di prezzo qui poi c'era una forte discesa un recupero la mia idea è la seguente questo il massimo lo vado a porre qua non qui sopra né qui sopra lo vado a porre sul corpo di questa forte candela di quest'altra poi ritracciata per me questo è il vero massimo del mercato chiaramente siamo in una visione del tutto discrezionale il minimo qui invece no lo metto su questa candela qua lo estendo un poco cerchiamo di farlo preciso ora è chiaro che io potevo comprare un po' meglio secondo me potevo comprare ma ero distratto da una certa cosa poi torniamo a Paolo che ci sta dando la sua operatività sul dollaro avrei dovuto fare 1.10 e 66 circa su euro dollaro fra l'altro ho un livello long dato dal mio sistema 1.10 e 67 visualizza navigatore dashboard light mi sparo a dashboard light sopra e infatti sarei dovuto entrare qua se avessi avuto otto mani e tutto il resto sarei dovuto entrare su questa candela peraltro una candela oraria quindi avrei dovuto porre la posizione mentre prendevo il caffè perché alle 7 del mattino io non so voi a Londra ma insomma noi il caffè in Italia bisogna a lunedì per forza prenderlo per riavviare per riavviare il motore un primo target che sono entrato in realtà su target 1 me l'ha preso quindi sono obbligato anche da una logica di numeri a cercare di trovare su euro dollaro questo livello qua dove eventualmente uscirei perché la macchina mi segna un eventuale contro trend ho qualche dubbio e forse anche sono entrato a 1 10 e 69 ho qualche dubbio amici miei che raggiungerò questo target durante la trasmissione ritengo che questo target lo vedremo poi nella prossima nella nella prossima puntata è un'operazione di rimbalzo non credo su euro a una figura di questo tipo tipo 1 2 3 non ce lo vedo sinceramente significherebbe andare in debolezza forte su dollaro e in questo momento non penso tanto a debolezza su dollaro potrebbe aiutarmi un'eventuale discesa del dax quindi in realtà che si vadano un po' provocare fra di loro perché di solito euro forte da noi al dax dax è forte da noi all'euro vediamo chi vince se vince dax prenderà uno stop e il mio stop sarà 1 10 e 55 e per non sapere leggere e scrivere visualizza terminale dove mi è finito il dove mi è finito vediamo un po' il visualizza terminale beh con tutti questi schermi ho perso il il adesso devo trovare devo trovare il il terminale me lo sono perso mi è andato via chissà dove ritengo che sia nascosto ahiaia è partito via ok devo essere perso no webinar jam ci siamo sì eh scusate è il brutto è il brutto delle dirette ma ogni tanto ci si si perde visualizza terminale vediamo se lo trovo eccolo fatto trovato mi si era nascosto allora andiamo subito a mettere lo stop 1 10 e 55 1 10 e 69 modifica cancella ordine vediamo dove il mio sistema il mio sistema mi dava lo stop a 1 10 e 51 1 10 cioè in realtà state proprio vedendo un'operatività in diretta fate conto che siamo soli a casa siamo lì litighiamo con i monitor con le macchine con i computer tutto il resto 1 10 e 76 1 10 e 76 quindi l'operazione è frizzata se va bene bene se va male male è fatta e quindi un altro piccolo passo avanti Paolo intanto ci dà di nuovo le indicazioni sulla sua operazione di dollaro yen dove lui è entrato sciolto a 108,92 andiamocelo a vedere il 108,92 utilizziamo la poniamo sopra il grafico di DAX la allarghiamo 108,56 quindi andiamo a trovare un time frame più consono 108,92 beh se se non vado errato o lui mi ha shortato qua sopra ma forse per lo slippage veramente questa è proprio un'operazione chirurgica oppure altrimenti è più probabile che Paolo abbia shortato questa shooting star molto bella sarebbe stato in questo caso fare questo tipo di operazione la allarghiamo qua sopra bella questa sarebbe stata sinceramente un'operazione molto interessante confermata da questa rottura volatili di prezzo e questo pullback personalmente qua minimo di profitto me lo sa ripreso perché se Paolo ha shortato qua è un'operazione che sta un po' prendendo sull'adesso una strada più interessante operazione tarata sul daily quando operazioni si tarano sul daily il mio suggerimento è di vederle anche su un grafico intermedio il classico H1 e il daily che è l'H4 l'H4 vi aiuta tantissimo soprattutto perché vi dà questo tipo di visione quindi se l'operazione è stata fatta secondo me c'è molta intelligenza dietro questo trade perché lui in realtà probabilmente ha osservato l'altura della media mobile a 200 periodi una sua progressiva ancora molto lenta peraltro questo è un grafico lento rumoroso ma senza direzione idea di andare a lavorare sull'inclinazione della media stessa come indicazioni in realtà qui ci sarebbero anche delle indicazioni di supporto quindi da osservare con attenzione questo a vederlo su H4 sembra proprio uno di quei bei falsi segnali molto più bello ad esempio questo sul indicatore up and down come sapete è a disposizione di tutti i colleghi che aprono il conto con almeno 1000 euro qui sopra questa è una bella divergenza questo più interessante su questo livello ma quando c'è la media mobile molto vicino devi stare estremamente attento e quindi direi che qui se l'operazione parte è bene che parta oggi pressione a ribasso ve ne è non altrettanto forti sono indicazioni di sentiment ma credo che Paolo abbia potuto tramite i suoi indicatori non so quali usa osservare anche un altro interessante pattern di perdita di spinta qui c'è questo massimo diciamo della didattica qui c'è questa sequenza e qui c'è questa innegabile anche se poco visibile divergenza l'indicatore up and down è molto bello perché segna proprio qua i livelli di resistenza dove vi siano qua i livelli di supporto dove vi siano interessante è l'utilizzo in controtendenza quando i prezzi salgono arrivano chiaramente a individuare un livello di resistenza che in questo caso è questo poi salgono ancora e ovviamente sale anche l'indicatore che va a fare divergenze fra supporti resistenze e supporti e forza del trend quando c'è un forte scarto visivo fra la posizione dell'indicatore per indicatore intendo questo e il livello di resistenza e di supporto senza guardare la linea dello zero non l'ho messa nell'indicatore non ci vorrebbe nulla per farlo poi intanto finisco di descrivere l'operatività l'uso dell'indicatore e poi cerchiamo di trovarci un senso quando esce molto fuori e va a raggiungere come in questo caso massimi precedenti vedete così come in questo caso l'unico motivo per un imbalzo era che l'indicatore era andato molto fuori dal livello di supporto e aveva raggiunto minimi precedenti allora in quel caso aumenta la profittabilità di orre in essere eventuali operazioni in controtendenza è andato presente chiaramente in questo caso si valutano su un grafico a 4 ore quindi i grafici a 4 ore sono grafici lunghi cioè richiedono che il mercato dia dei segnali soprattutto perché come stiamo osservando adesso io con un occhio guardo questo e con un occhio guardo anche un po' il resto della truppa vedete che c'è stato una varaonda ma poi in realtà anche Dax sta cercando di tornare sui suoi passi io lo osservo anche su un altro schermo e se dovessi dire e portarmi per esempio ritorno sul Dax togliendo la modalità H4 che non è adatta ai passi sincopati come il sottoscritto dovessi osservare Dax non so no no non ancora no no stavo pensando a farci un long ma non mi piace questo quadro non mi piace questo quadro tecnico per il momento aspetto quindi Paolo ci sta dicendo che usa l'RSA e usa livelli di Fibonacci ora senza entrare troppo nello specifico non ci sono indicatori migliori o indicatori peggiori ci sono il vostro modo di vedere le cose e le considerazioni che fate Paolo per esempio ha lavorato con considerazioni di divergenza sull'RSA utilizziamo questo suo grafico per eventualmente impostarci un altro indicatore da molti di voi adoperato che è l'RSA e vediamo se con l'RSA utilizzeremo una modalità in cui mettiamo un pari poso inserisci indicatori oscillatori relative stand index lasciamola 14 questo è l'RSA ora se devo essere sincero però prendetelo come parere personale non ritengo di essere la bibbia mi trovo personalmente meglio a leggere indicatori meno frastagliati chi però ha buona dimestichezza con RSA e compagnia bella non può non notare che comunque chiedo conferma agli esperti che ci sono fra di voi che qua in ogni caso una certa divergenza ci sia una certa sperdita di spinta ci sia sull'RSA un mio consiglio è anche quello di fare come fanno molti americani di lavorare utilizzando trendline stesse sugli indicatori e poi non dite che non facciamo didattica anzi ci sono persone che mi hanno rimproverato non so se Alessandro mi sente di fare troppa didattica gratuita su questi webinar mi insegni troppe cose eccetera eccetera tra un po' andrò in pensione per cui tenetele buone che non si sa se domani le potremo sempre veicolare sfruttatele in questo senso l'indicatore sull'H4 non ha una posizione particolarmente invitante per continuare a scioltare anzi se fosse per me ma questo è un parere personale io non incrementerei a ribasso le operazioni perché se l'operazione è fatta in maniera interessante e secondo me il livello dove è stato fatto questo short è un livello interessante personalmente non la incrementerei sicuramente ne personalmente un'entrata 108 e 29 sul 4 ore vi dico qual è la volatilità del forex sul 4 ore su dollaro yen è piuttosto bassina questo l'ha detto perché è bassina sono 20 punti quindi un 108 e 92 a mio modo di vedere sarebbe 108 e vediamolo un po' 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 108 e 92 9 a mio parere sarebbe cosa buona e giusta scalarla di una ventina di punti e quindi io porterei personalmente il mio trailing stop qua ma questa è una valutazione tipo personale cioè lascerei eventualmente correre l'operazione tenendo presente che qua sotto a 108 e 40 c'è una linea di supporto che a mio parere anche in un caso di eventuale rottura qui sotto va posizionato e quindi secondo me qui una resistenza a scendere la si potrebbe incontrare perché una discesa ma questa per fare una discesa del genere candele 4 ore bisogna vederla fra oggi e domani perché 4 ore 3, 4, 5 candele tanta roba a tirarle via ad accumularle l'RSI probabilmente andrebbe a rompere questo minimo e si andrebbe a posizionare sotto 30 fra 30 e 20 la classica area di ipervenduto sulla quale si pongono dei rimbalzi mi vengono fatte delle domande alle qua una domanda viene fatta una domanda da collega Alexandra alla quale non so rispondere e non voglio rispondere nel senso che Alexandra chiede afferma di aver trovato online value at risk in percento sul DAX 2,154 io purtroppo posso parlare soltanto di ciò che conosco e di ciò e di fonti di cui mi servo quindi io per esempio calcolo i livelli di stop e di trailing in base alla volatilità tramite l'indicatore average true range e su quelle poi faccio tutte le mie valutazioni cose che voi trovate online in giro senza riportare le fonti o anche se cortesemente mi riportate le fonti io devo poi controllarle durante il webinar mi diventa un po' difficile mi diventa un po' difficile vi do però dei suggerimenti che possono chiaramente essere proprio i suggerimenti della nonna ci sono indicatori tipo leverage true range che potete andare a controllare per impostare le vostre operatività perché sia pure in senso retrospettivo perché questa è la volatilità delle ultime non delle prossime che non è calcolabile facilmente con strumenti basici come l'ATR voi vedete che questa ATR in questo momento sul 4 ore sta viaggiando basso ha una media di 13 pip il suo massimo è stato 24 pip questi 24 pip sono un massimo importante questi sono minimo importante la media per oggi potrebbe stare intorno a 17 18 19 pip circa potete controllare anche potete farvi anche un calcolo empirico di dove sta una media prendete il massimo dell'indicatore prendete il minimo questo è 24 questo è arrotondato è 11 24 15 fa 35 gli su 2 sono 17 17,5 pip ecco se una persona dice io sono entrato a 108 e 92 dove porto il mio trailing stop un modo molto corretto secondo me senza neanche impazzire troppo per trovare il vostro trailing stop potrebbe essere di calcolare 17,5 pip in basso in questo caso dal vostro prezzo di entrata quindi fate un 92 ci togliete 17 92 meno 10 fa 32 meno 7 75 tornate a quel 108 e 74 108 e 75 che ho individuato che ho individuato io che ho individuato io prima e secondo me questi sono i modi corretti di poter trovare delle posizioni utilizziamo quindi questo grafico che useremo come grafico per per fare anche delle valutazioni ad esempio sul DAX ma queste valutazioni non possono non tener conto di quello che è lo scenario operativo che voi fate cioè affermazioni del tipo ho trovato su internet value to risk cioè cosa vuol dire vuol dire che su internet c'è un sito x y z magari attendibilissimo non stiamo assolutamente dicendo questo perché non siamo qua per dire cose sbagliate o per parlare male di cose che non conosciamo ma una valutazione tipo secondo me DAX oggi in questo momento ha un value to risk di 2,54 significa quindi che se io dovessi andare long su DAX dovrei avere 2,54 punti di profitto per ogni punto di stop è una domanda o short è un'altra domanda cioè l'operazione profittevole di DAX è profittevole se io guadagno almeno due volte e mezzo quanto lo stop per cui se metto uno stop e dieci punti devo guadagnare almeno venticinque queste sono indicazioni interessanti ma sono teoriche in quanto in quanto quando lavoriamo sul mercato poi lavoriamo tutti con capitali diversi esperienze diverse ma un'altra cosa è diversa è la tolleranza al rischio se io per esempio adesso qui mi compro il DAX abbiamo fatto questo gioco me lo compro perché mi piace togliamo la TR non mi interessa perché mi piace tolgo l'RSI perché non mi interessa perché mi piace cancella questo ok perché mi piace una certa situazione che ho visto e che ritengo passata la buriana di apertura visto che siamo su un supporto possa un supporto scusate possa giustificare di fare una porcata di questo genere perché qui c'è da superare questo livello di swing e resistenza c'è metà di questa candela da ritracciare faccio vedere gli ostacoli che trovo quali ostacoli trovo in questo tipo di operazioni trovo tre siamo a lunedì quindi il mercato non chiaro siamo su prezzi massimi per cui è più probabile che io trovo delle resistenze che dei supporti e l'ostacolo che trovo qui dentro è il seguente lista oggetti cancelliamo tutto quello che ho fatto trovo volatilità trovo del gran rumore ma la candela che mi porta via di testa è questa questa è la candela di benchmark oltre che questa perché questa mi ha fatto questo minimo importante sentito dal mercato però ha questo livello qua che è antipatico infatti vedete corpo massimo 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 quindi io sto comprando un tentativo di sfondamento a breakout che probabilmente potrebbe generare uno stop perché in ogni caso siamo su un livello di supporto qua sotto ma il mercato fa molta fatica e giustamente come dice anche qualche altro collega Dax in questo momento è un po' piantato però a volte si comprano e si fanno gli short o i long anche quando i mercati sono piantati perché poi dopo dire hai visto come si è mosso forte sì però quando l'ho fatta io ci credevo solo io e basta perché magari un altro deve dire no ma operazione ferma le operazioni si fanno a volte quando i mercati sono fermi poi si prendono gli stop poi si prendono i gain ma questo fa parte di 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 un ragionamento un ragionamento in termini più complessivi secondo me per oggi di ostacolo a questa operazione che io ho fatto è questo un eventuale a lungo mi incontrerebbe questa resistenza che è 4 quinti delle estensioni di questa candela qua a 11.000 scusate 3.167 poi questo massimo ed eventualmente da qui ai prossimi 25 minuti il nostro webinar sarà già terminato quello che sicuramente secondo me sarà topico è il 13.170 in generale DAX sul 180 fa una grande fatica DAX come prezzo sul 180 proprio gli è ostico non fosse altro perché sul future mercato ufficiale l'ultima chiusura è 177 non fosse altro anche che quest'operazione secondo me è sbagliata e la Pidari la chiude così avete visto anche come si prendono gli stop una volta troppo bello fare i fighi hai visto guadagnate eccetera no si prendono gli stop e si prendono di brutto poi magari la cosa simpatica è che con la dashboard li chiude al volo con un tasto e non ci penso e non ci penso e non ci penso più è chiaro poi col seno del poi perché sul seno del poi siamo tutti veramente fighi c'è questo candellone rosso che indica la direzione del mercato come dice il mio amico Giova in chat e la direzione del mercato oggi è una direzione più probabilistica a scendere che a salire ma quando io faccio delle operazioni faccio una valutazione in questo caso che è stata fatta 6-7 minuti fa la cosa secondo me che contraddistingue un professionista da una persona che ancora non è sintonizzato bene con il mercato è il fatto che il professionista fa una scelta se 6 minuti dopo quella scelta non gli piace non deve avere pentimento alcuno a cambiare idea e non deve avere poi secondariamente pentimento alcuno a fare che cosa a non tornarci più sopra il fatto poi come dice Angelo che io sto facendo un'ora di analisi solo sul DAX è perché il Fuzzimib non ce l'abbiamo sulla piattaforma io lo so che lei ha chiesto di poter fare il Fuzzimib ma non ce l'ha il Fuzzimib sulla piattaforma di è uno strumento che offriamo e non è uno strumento che viene offerto se vogliamo andare più vicino possiamo utilizzare l'Eurostox le dico il Fuzzimib in questo momento sta perdendo 0,12% quindi in questo momento non sta in realtà perdendo granché è in una fase dal punto di vista grafico molto simile a quella del DAX e vediamo se è simile anche a quella di Eurostox altro strumento che io spesso osservo e che come composizione di struttura di mercato premesso che l'Eurostox sul 5 minuti è inguardabile perché è un indice che chiede altri scambi la struttura di tutti gli strumenti azionari in questo momento sono tutti appesi sui massimi non riescono a scendere perché chiaramente c'è molta paura da parte dei ribassisti a operare non riescono neanche a salire per cui una scommessa lapidaria è stata azzeccata una scommessa l'altra scommessa lapidaria è stata invece stoppata anche senza guardare molto per il sottile Alessandro poi terrà la contabilità perché io so che tu tieni la contabilità si seguo con grande attenzione di questi webinar eccetera eccetera lascerei invece spazio a voi se ci sono delle altre domande su strumenti che volete controllare per esempio un strumento che voglio andare a controllare adesso è il petrolio so che invece sulle materie prime anche qui vedete che ci troviamo di fronte a una configurazione grafica molto chiara quando il mercato il venerdì viene da rimbalzi in questo caso molto forti ha fatto anche l'azionare guardate la bellezza di questa figura che ho creato al volo ho preso queste due le ho proiettate da questo swing vedete che sono quasi simili quando strumenti vengono da accelerazioni così forti è alta la probabilità che inizio settimana noi webinar li facciamo lunedì poi se volete cambiamo anche giorno io non ho nessun problema basta mettersi la cosa è alta la probabilità che strappi così brutali debbano poi richiedere ulteriori fasi di consolidamento è il mio modo di vedere un'ulteriore fase di consolidamento sul petrolio è da vedersi in questi termini perché accelerazioni così forti in presenza di dati macro che non arrivano tendono poi spesso e volentieri ad essere breakout che hanno bisogno di essere rivisti si dice ritracciati pullback all'interno però di un range chiaro che a mio parere è quello di questa seconda parte di canale chi ci chiede SP500 vedete che siamo sullo stesso livello con una piccola differenza c'è comunque una maggiore forza tenuta resilienza parola che ormai la resilienza viene usata anche per descrivere le proprietà della curcuma o dello zenzero però va molto di moda c'è una certa tenuta innegabile dell'indice americano attenzione che sull'indice americano invece c'è un mercato pericoloso perché comunque questo è un mercato che si è mosso così è molto verticale un mercato molto verticale significa grande pressione in acquisto quindi questi sono tutti trade di riacquisto di SP500 questi sono compere di SP500 perché qui c'era qualche operatore che si era messo short su questo livello e che si è dovuto poi chiudere comprando di brutto ma che compra di brutto non sono i big sono gli small che devono chiudere le loro operatività quindi questi sono acquisti fatti dai piccoli operatori e ve ne accorgete anche da una cosa dai volumi vedete il mercato sale di brutto con volumi sempre più bassi quindi se il mercato sale di brutto con volumi sempre più bassi non è un mercato fatto da quelli che i soldi ce l'hanno quelli che i soldi ce l'hanno hanno scioltato qua e hanno comprato qua tutte queste azioni sono azioni di recupero di prezzi perché qui scusatemi qualcuno ha tutelato il mercato in basso l'ha ricomprato ma una volta che l'hanno comprato e gli hanno dato una botta anche qua poi per resta hanno smesso di comprare e questa è la bontà dell'indicatore di sentiment che ti fa capire chi compra e dove e quando smette di comprare lascia che le azioni di riacquisto sia fatte a tutti coloro che continuano a vedere sui rimbalzi l'opportunità tecnicamente giustificata ma psicologicamente devastante di riandare short vedete che il mercato torna su questo livello altrimenti ci sono quelli che erano in posizione long hanno sofferto e quindi si chiudono e poi sono quelli che vanno short qua non chiudono l'operatività qua la pressione in vendita è molto debole quindi in realtà chi ha un po' shortato qua ha shortato gente che invece comprava non vendono pochi venditori ritorna i compratori a un certo punto anche gli shortisti devono poi richiudersi e quindi cosa succede? succede in realtà che ti trovi un mercato che ti sale ma sei tu che lo fai salire perché devi chiudere le operazioni sbagliate che hai fatto spero che la spiegazione che poi potrete rivedere anche in video su youtube vi possa confortare qualcuno mi chiede di nuovo sul DAX ma non ne voglio parlare perché sono stato cazziato per parlare angelo angelo ma cazziato collega che saluto perché ho parlato sui DAX per cui basta non voglio parlare più di DAX se volete parlare di DAX torniamo a sto cercando natural gas perché non ce l'ho in watch list mi dai il simbolo ce l'abbiamo il natural gas noi come materie prime non lo trovo me lo segno ecco così per esempio adesso il DAX mi risale e quindi magari vedi ho fatto l'operazione prima mi sono stoppato adesso guarda adesso mi sta salendo mi sta salendo di brutto allora che cosa ho fatto sono un bip no il trader il trader fa questo il trader fa un'operazione ci crede non ci crede si fa un tempo mentale di riferimento la prende la chiude la chiude poi il mercato va nella direzione che aveva fatto lui pazienza questo è il nostro il nostro lavoro se eliminiamo dal nostro lavoro una parola incredibile bruttissima che rovina la vita poi non solo come trader ma anche in generale nell'esistenza quotidiana di molti noi siamo a rimpianto non ci sono problemi non bisogna avere rimpianto rimpianto non esiste c'è sicuramente una news perché anche Fuzzimib si è girato un po' meno in negativo ha recuperato un 0,10% probabilmente c'è un'accelerazione di prezzo interessante che stiamo notando anche su Eurostox e che si riflette anche in parte sulla dinamica di Wall Street prendiamo per esempio vedete però operare su queste accelerazioni di prezzo vedete poi questo chiaramente è il grafico del Dow Jones vedete però che qui si va molto poco lontano bilancia commerciale tedesca positiva ecco una cosa che ancora la PDAI non sa fare è guardare grafici trovare delle occasioni operative guardare anche i dati macro per il prossimo webinar ci attrezzeremo però vedete bilancia commerciale positiva il mercato fa un gesto tecnico interessante però vedete questa scelta e non posso lavorare così non è un ambiente che mi interessa dove faccio una scommessa e guadagno subito la incasso dove faccio una scommessa e la perdo entro 5-6-7 minuti la chiudo perché tenere una cosa terribile nel trading da non fare è tenere aperte operazioni che sono operazioni di pura speculazione purissima speculazione aperte per ore se è una cosa che ci compromette la salute emotiva quel cosiddetto capitale psicologico e di conseguenza anche poi quello finanziario è quello di fare un trade a volte per noi a volte per scommessa a volte perché vedi una cosa ma su un grafico a 5 minuti e un film su cui hai impostato un'operazione su un grafico a 5 minuti diventa un film a 5 giorni questa è la più grossa questa è la più grossa fesseria che si possa fare penso che su questo interrompo è uno dei motivi più diffusi per quanto riguarda le perite degli operatori perché è una dinamica estremamente classica ed estremamente pericolosa sì perché è una dissonanza cognitiva sul tempo cioè una delle cose più importanti e io vorrei che ascoltiate con grande attenzione ciò che sto per dirvi perché magari se siete qui per vedere le operazioni se siete qui per vedere come diceva Iannacci in quella canzone venga anche io noto no le bestie feroci al circo magari oggi avete visto una bestia feroce fare uno sbadiglio piuttosto che fare un ruggito ma la cosa è finita lì però quello che di bello c'è in questi webinar e che non credo che troviate facilmente anche da altre parti è anche le considerazioni di una persona che cerca di trasmettervi la propria esperienza sul tempo per esempio come sottolineava Alessandro c'è proprio questo problema noi guardiamo grafici sui nostri schermi a time frame differenziati magari da un lato abbiamo un 5 minuti da un lato abbiamo un orario togliamo le indicazioni della dashboard list indicatori la cancello un attimo su un altro grafico magari vediamo un 4 ore e poi concludiamo e vediamo dei film diversi il 15 minuti fa vedere una cosa l'unora ne fa vedere un'altra il 4 ore ne fa vedere un'altra prendiamo la decisione normalmente in base al time frame se siamo trader intraday di solito le decisioni si prendono sui time frame corti perché sono quelli che danno più informazioni che si muovono di più e quindi che solleticano di più quella parte emozionale del nostro cervello che vuole vedere attività e che di conseguenza vedendo attività pensa che il mercato sia da partecipare in modo altrettanto attivo altrettanto emotivo pesate bene queste parole se non che il mercato ha i suoi tempi ha quelli che i più esperti fra di noi chiamano anche i suoi cicli se però la decisione che noi prendiamo è in base al time frame corto noi dobbiamo sempre riflettere su una cosa quel time frame corto è in linea è in sintonia con le mie attitudini cioè io sto usando un time frame corto perché sono una persona che normalmente lavora operazioni di corta durata allora c'è una coerenza una assonanza fra ciò che lo strumento time frame a 5 1 15 minuti che utilizzo e la mia mentalità e i miei desideri e le mie caratteristiche e le mie attitudini se invece io sono una persona che vuole 70 80 pip di euro dollaro 20 figure di oro compro 1460 e il mio target è 1480 short 1460 e il mio target è 1440 che sono target e orizzonti temporali che richiedono da 1 a 2 giorni per essere perfezionati per quanto riguarda l'oro giusto per darvi un dato 20 figure di oro richiedono da 2 a 3 giorni giusto per avere un'idea è perfettamente inutile che io guardi il grafico a 5 minuti per entrare dovrò guardare un grafico su base oraria e dovrò stare attento a non commettere due errori l'errore mio può essere quello che entro voglio guadagnare 20 punti di oro guardo un grafico orario e poi dopo due ore mi spazientisco e chiudo perché vuol dire che c'è una dissonanza cognitiva fra i miei desideri 20 punti e le mie capacità barra possibilità cioè io desidero 20 punti di oro ma non ne sopporto neanche due di oscillazione allora significa che io ho un disaccordo e chiaramente ci rimetto soldi per questo disaccordo fra quello che è la velocità del mercato i suoi tempi e quello che sono i miei desideri io voglio delle cose da una persona che si chiama oro dentro il mercato che ne vuole e se ne può permettere di darmene delle altre questa è la prima cosa la seconda cosa qual è quella di al contrario utilizzare grafici a 5 minuti per chiedere 40 punti al DAX che il DAX 40 punti in 5 minuti te li da solo in momenti eccezionali utilizzare il grafico a 5 minuti per chiedere all'euro dollaro 60 pip quando forse l'euro dollaro non è in grado di farli neanche in una giornata noi dobbiamo sempre avere coerenza la mancanza di questa coerenza porta a un errore che è trasferire sul mercato modalità logiche che diventano però speranza ho fatto un grafico ho fatto un trade a 5 minuti non mi sta dando soddisfazione vedo come in questo caso per quanto riguarda il DAX che sull'orario sta sbattendo sulla media mobile sul daily la media mobile invece ce l'ha sotto la stessa 200 su 4 ore scusate sta a 12.850 sul H1 sta a 13.170 e sta a 13.111 sull'M15 quali seguo? 111 170 850 secondariamente che decisione prendo? e lì quello che conta è quanto il trader conosce di se stesso quanto il trader sa normalmente qual è l'arco temporale nel quale riesce a ottenere migliori risultati il mio arco temporale nel quale ottengo migliori risultati è da 1 a 20 minuti non è questione di essere bravi o non bravi in tempi corti è dove le mie attitudini trovano maggiore soddisfazione cioè 20 minuti è il tempo nel quale io e il mercato riusciamo ad andare più d'accordo ma non è che sono figo per questo è anche un grosso limite avere tempi così corti ne abbiamo già parlato per esempio con Pietro durante i webinar precedenti però l'importante è che io conosca quali sono le mie attitudini in base alle mie attitudini lavorando su tempi così corti cosa dovrò fare? ottimizzare i tempi le modalità di ingresso dovrò essere più chirurgico ma soprattutto avere coerenza anche nelle modalità di uscita se faccio un ingresso un po' caro devo dare più tempo perché non sono entrato proprio preciso se faccio un ingresso preciso devo chiedere al mercato di darmi lui tempi stretti ovvero sono entrato secondo me bene supporto divergenza pivot fibonacci tutte queste belle cose che uno di noi usa livelli calcolati come ha fatto Pietro che ha fatto l'operazione dollaro ieri in base a una certa serie di considerazioni molto logiche divergenze pivot, RSI livello di prezzo io credo di averci visto anche una shooting a stare eccetera eccetera però poi una volta che i nostri criteri sono per la nostra esperienza razionali poi è la gestione dell'operatività e la gestione dell'operatività quella deve essere in base a delle regole le aspettative possono essere flessibili devono essere flessibili mi aspetto di guadagnare 20 minuti mi trovo in una zona di congestione 20 punti 40 punti 30 pip mi becco in una zona di congestione cosa faccio? no io devo guadagnare 30 pip e sto in posizione a dispetto dei santi no cicci no ragazzi non si fa così le aspettative devono essere flessibili in base a quello che può dare il mercato poi le statistiche su quanti pip punti noi guadagniamo mediamente quelle fanno parte di un percorso storico non è che in base alla nostra storia noi dobbiamo sempre avere il mio target è 20 punti il mio target è 20 punti bisogna vedere se oggi il mercato è adatto al tuo target perché se non è adatto il mercato al tuo target ci sono due cose o cambia il mercato o cambi te secondo voi è più facile cambiare noi o è più facile far cambiare idea al mercato fatti una domanda direbbe Marzullo datti una risposta per cui sotto quell'aspetto bisogna essere molto molto chiari perché se non c'è questa chiarezza è chiaro che si trasferisce la non preparazione va a confrontarsi con l'orgoglio l'orgoglio dice caro Lapidari non sei preparato Lapidari razionalmente dice orca misera a me questa cosa mi scoccia l'orgoglio dice ci sono dei rimedi primo rimedio studia secondo rimedio spera è più faticoso studiare o è più faticoso sperare è più faticoso studiare l'essere umano cerca sempre le scorciatoie l'italiano poi è maestro nella ricerca le scorciatoie trasferisco tutta la speranza e la speranza che cos'è ma tanto secondo me prima o poi ci arriva facciamo una statistica di quanti secondo me hanno funzionato poi se ne riparlerà detto questo già fumata un'ora di webinar è volata comunque vogliamo dire qualche altra cosa indicatori promo sentiment altre cose volevo intanto ringraziarti ancora per oggi poi ricordare a tutti che tutti gli strumenti che tu utilizzi quindi i vari indicatori sentiment dashboard sono tutti messi a disposizione da BP Prime ai propri clienti quindi oggi manderemo a tutti la registrazione per rivedere il webinar e per qualsiasi poi informazione contattatici contattatici pure che